Mi chiamo Sebastiano Tomada, ho 27 anni e che cos'è l'identità? L'identità è qualcosa di profondamente personale, penso. Non penso che uno possa letteralmente definire che cosa sia l'identità. Nel mio caso è un po' difficile perché sono nato a New York. Ho vissuto a New York i primi cinque anni, sono andato all'asilo nido fino a quando avevo cinque anni e poi sono ritornato in Italia e i miei genitori sono tutti e due italiani. E da quando ho incominciato ad andare elementari ho sempre avuto la domanda ma cosa sei, sei americano, sei italiano, dov'è veramente la tua casa? Io rispondevo ho due passaporti, ho una cittadinanza americana, una cittadinanza italiana però allo stesso tempo pensavo dentro di me identità? Cosa sono veramente? Italiano, americano? Importa? E col passare del tempo è sempre stata una questione abbastanza interessante anche perché la gente continua a chiedermi, specialmente nelle biografie o se semplicemente ti chiedono di dove sei la maggior parte delle volte ci metto due o tre minuti a rispondere non so se sono italiano, non so se sono americano questa è la prima cosa che mi viene in mente per quanto riguarda l'identità per quanto riguarda l'esto è talmente personale che puoi appartenere a qualsiasi parte del mondo è una cosa... sì, non lo so